eccoci buonasera a tutti ben trovati grazie ovviamente a luce annunziata massimo giannini che questa sera parleranno del libro di luce annunziata che si chiama l'inquilino edito da da feltrinelli da monti a meloni indagine sulla crisi del sistema politico questo è il è il sottotitolo forse partirei con una domanda per massimo e poi arriviamo alla all'autrice del del libro e oggi abbiamo ci siamo detti insomma poco fa con con lucia e con massimo che invertiamo un po i ruoli siccome loro sono intervistatori tutta tutta la settimana oggi come dire ribaltiamo un po e quindi provo a fare delle domande dal mio punto di vista di osservatore un po atipico della politica allora domanda per massimo giannini è questa il libro di luce annunziata racconta gli ultimi sette governi ovvero gli ultimi undici anni di politica italiana e come dire il titolo che lei dà poi le fare una domanda su questo è l'inquilino un po sottoneare la provvisorietà di chi di chi occupa quelle stanze di palazzo chigi ti chiedo tu dirigi un giornale importante se abituato a fare titoli tutti i giorni se dovessi no sette perché arriva meloni ma non racconta ancora meloni anche perché sarebbe curioso no se includesse già anche la storia del governo meloni tu fai titoli tutti tutti i giorni sulla stampa ti chiedo se dovessi dare un titolo a questi undici anni che titolo sarebbe c'è che cose che hanno in comune personaggi così diversi da monti a letta da renzi a conte ma intanto già il titolo che ha dato lucia secondo me è molto significativo e indicativo perché l'inquilino significa un soggetto una persona che occupa protempore un'istituzione repubblicana che è esattamente quello che è successo in questi undici anni nei quali si sono avvicendati governi presieduti da primi ministri non eletti mai eletti dagli italiani e questo presuppone il sottotitolo che già lucia mette indagine sulla crisi del sistema politico che è poi la costante di questi ultimi undici anni volendo potremo persino allungare l'orizzonte ed arrivare a tangentopoli diciamo mani pulite da mani pulite in poi che l'italia è iniziata l'eterna transizione che in realtà si è rivelato un ponte sospeso verso che cosa nessuno l'ha mai capito fino ad ora no però diciamo che questi ultimi undici anni sono stati davvero il coronamento in negativo di una fase nella quale la politica ha cominciato a girare su se stessa e a non saper più produrre soluzioni e il paese si è distaccato sempre di più da questo sistema che girava a vuoto ed appariva autoreferenziale la marginalità politica delle opinioni pubbliche si è accompagnata ad una progressiva marginalità sociale legata alla crisi economica e tutto questo ha determinato il montare dell'onda populista da un lato e dall'altro lato e anche questo ha generato e alimentato l'onda populista il ricorso a governi tecnici nell'impossibilità o nell'incapacità del sistema politico di offrire soluzioni che riflettessero il risultato del voto e dunque il combinato disposto di questi fattori no appunto la crisi di sistema della politica un'opinione pubblica sempre più distaccata governi tecnici che venivano evocati e alla fine insediati per rispondere a questa crisi che tuttavia essendo tecnici non riflettevano il voto dei cittadini e dunque l'abisso si allargava e alla fine eccoci qua giustamente lucia arrivando al 2018 racconta quello come potremmo definirlo lo stadio terminale di questa crisi il governo più populista sovranista che ci sia mai stato in europa per quanto poi vedremo se è così se è davvero l'ultimo ma insomma e tutto questo diciamo contrassegnato a conferma della crisi di un sistema da presidenti della repubblica due ai quali è stato chiesto di rinnovare il mandato quello secondo me è veramente il segno dell'irriformabilità se vogliamo no perché anche lì napolitano da una parte mattarella dall'altra ed arriviamo poi al capitolo finale del libro di lucia che è quello più gustoso e succoso perché è più vicino a noi e perché riguarda un personaggio importante di quest'ultima stagione politica che è mario draghi ecco ma dicevo napolitano da una parte mattarella dall'altra hanno diciamo come si sono hanno rappresentato per così dire questa forma di repubblica preterintenzionale che l'italia è sempre stata in questi ultimi anni no cioè devi restare al tuo posto al di là del settennato perché non siamo capaci a trovare un'altra soluzione e quindi salvaci tu napolitano lo ha fatto alla napolitano cioè vi salvo io ma vi riempio di accuse definitive in aula parlamentare alla fine delle quali l'intero parlamento si alza in piedi gli tributa un'ola pur avendo preso schiaffi appunto terribili mattarella non ha fatto la stessa cosa nel senso che non li ha presi a pesci in faccia ma insomma il risultato è sempre stato lo stesso altro settennato è un sistema che non riesce ad uscire adesso poi mi fermo qua perché ci affacciamo sulla fase nuova che che si è appena aperta lo stesso mattarella nel messaggio di fine anno ha detto dopo molti anni in italia c'è un governo politico compiutamente politico con una maggioranza politica che è riflette in questo caso sì la volontà degli italiani emersi dalle urne ha una di fronte a sé una prospettiva di legislatura vediamo in queste ore che forse c'eravamo un po' illusi anche su questo dunque e qui concludo mi pare di poter dire che la crisi di sistema continua lucia il libro libro ricchissimo tra l'altro non solo di ricostruzioni storiche se vogliamo ma anche di documenti interviste nuovi aggiuntivi inediti si parlava prima del capitolo su draghi che ad esempio contiene diverse diverse confidenze di fonti proprio su quello che accadde a gennaio dell'anno scorso con l'elezione del Quirinale è un libro che io parto dal titolo sembra una scorciatoia ma non lo è ci racconta di un tempo nel quale il potere politico e la guida del governo è molto provvisoria è molto aleatoria ed è qui l'idea dell'inquilino e però siccome tu stessa nel libro ricordi che poi nella storia italiana della repubblica italiana ci sono stati 30 presidenti del consiglio più di 60 governi mi viene da chiederti ma non è che sono sempre stati inquilini la mia risposta è no perché diciamo fino a un certo periodo della nostra storia il presidente del consiglio magari duravano poco ma il sistema era molto stabile invece in questi dieci anni è proprio il sistema che è impazzito mia persona interpretazione ma ovviamente mi interessa sentire la tua sì questo è giusto però diciamo vorrei rispondere sulla storia dell'inquilino perché quando uno scrive un libro per tre anni e stacco sto titolo in testa eccetera eccetera sviluppo una sorta di rapporto no con questo termine dicendo ma perché lo uso bene lo uso male eccetera voglio dirvi due cose uno un numero il paese ha avuto 69 legislature e 30 primi ministri non so questo vi spiega già come la differenza come tu dicevi giustamente sistema diciamo stabile e premier che passano però sono 30 10 di questi 30 sono tutto il prodotto come diceva giustamente massimo della seconda repubblica di fatto dal 94 in poi sono stati prodotti 10 premier con attualmente sono 11 quindi un terzo più di un terzo di quelli che abbiamo avuto un terzo preciso sono stati prodotti nell'arco di 15 anni ecco 15 16 anni credo che questo sia la spiegazione che tu stai cercando cioè è vero che l'italia ha sempre avuto questo un sistema stabile ma diciamo uomini che cambiano invece secondo me quello che è successo recentemente è che il sistema e gli uomini oltre che gli uomini si è in qualche modo liquefatto insomma cioè quello che massimo diceva credo che tutti voi l'avete sperimentato noi da un certo punto in poi abbiamo cominciato di fatto monti si è un po' incazzato però insomma questa è la verità cioè l'arrivo di un tecnico ha di fatto convinto i cittadini che è inutile votare se poi chi voti non va in parlamento è inutile votare un partito che ti dà bersani come leader e invece poi bersani non riceve l'incarico cioè la questione della fiducia nel sistema è quello che è dentro questo libro come diciamo la progressiva fiducia e poi cresce 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 perché l'intero sistema non fa mai dei cambi quando arriva il sistema di cui parlavo la vola la quando arriva massimo quello il punto diceva massimo che nel 2018 nel 2018 finita la legislatura dove ben quattro premier un premier che era bersani non ce l'ha fatta letta non ce l'ha fatta ha fatto una cosa molto veloce il grande uomo che era che si presentava come tale non è una mia il grande uomo del rinnovamento che è renzi passa direttamente da sindaco a palazzo chigi solo perché ha vinto le primarie del pd cioè non è stato mai votato insomma al punto che lui avrà bisogno di fare di tentare l'approvazione del referendum come sostituto del voto no su questo poi abbiamo una storia molto bella di minniti perché molti mi hanno parlato in anonimato e abbiamo le registrazioni sono in mano al hanno rivisto le loro parole eccetera alcuni invece hanno detto beh io te lo dico minniti disse mi disse beh sai d'alema e renzi si somigliano molto perché entrambi sono andati a palazzo chigi senza nessun voto e quindi questa è una cosa che gli ha stroncato le gambe fin dall'inizio perché un inquilino cioè un uomo che va a palazzo chigi ma sa che non ha voti dietro ma dipende solo dagli accordi parlamentari finali è un uomo che non ha forza e quindi voglio dire questo è un tema molto ma quando dicevo arriva il grande momento in cui stravince il populismo italiano che sono appunto quelli della lega e di cinque stelle una sorta di populismo sovranista barra giacobinista insomma no giacobino dopo aver detto a tutti che si doveva andare a votare che i premier non erano mai eletti direttamente dal popolo col voto popolare quello che loro fanno è una cosa ancora più complicata chiamano un avvocato che non ha mai visto un'aula parlamentare un'aula consigliare non è mai stato in una sede di partito che si chiama conte che viene chiamato a fare il guardiano di un contratto tra due vicepremi che sono i capi di un partito ora io penso che anche chiunque vedendo quella cosa dice ma noi facciamo cose diverse in italia da dove è uscita questa formula cioè una formula assurda no a roma ve lo dico lo chiamavano il kamasutra di palazzo chigi no cioè perché devi proprio mettere delle posizioni stranissime per trovare una soluzione così e poi appunto si conte prima con lui conte che è firmato con salvini le famose famose leggi sicurezza e dopo di che un anno dopo salvini si schianta perché questo è un discorso a parte quello di salvini molto ciascuno di questi uomini fa degli errori pazzeschi e va diventa il premier della sinistra conte è un avvocato che non ha mai fatto politica vi rendete conto e adesso è il capo dei cinque stelle quindi non puoi neanche dire il pd o piuttosto che un'altra cosa quella formula è la formula che il sistema incoraggia ad avere ora vi dico solo un'altra cosa sull'inquilino c'è un famoso inquilino però nella storia che io all'inizio cito questo credo che è una storia che vi piacerà io parto con due immagini uno che parte da il senato è un palazzo madama e un altro che parte da montecitorio perché io in questo libro ho anche cercato poi magari ne riparleremo non è un libro fatto per gli addetti ai lavori è un libro fatto per chi per i cittadini che vogliono veramente capire che cosa è successo in questi anni vogliono davvero capire qual è il meccanismo che ci governa o che soprattutto non ci governa è un racconto pieno di storie diciamo incluso i palazzi come si comunicano tra loro c'è una sola strada che va dal Quirinale passa per Chigi che è attaccata a Montecitorio e arriva a palazzo madama che è il senato già proprio come dire la loro collocazione la loro comunicazione e lì a palazzo madama c'è al primo piano tra l'altro i torinesi dovrebbero venire lì perché dovete sapere che l'attuale diciamo geografia politica dei Roma fu determinata dai Savoia dopo l'unità d'Italia arrivarono presero i palazzi dei papi che erano tutti meravigliosi e cacciarono tutti i papi il Quirinale è il palazzo più bello d'Italia ed era il palazzo estivo dei papi no è considerato il palazzo più ricco più bello d'Italia insomma così palazzo madama era un altro palazzo dei papi che poi si chiama madama anche perché sai che a Roma la madama è la polizia perché dopo i papi a un certo punto diventò la grande centrale della polizia e è molto interessante vedere che fecero i torinesi lì dentro fecero una sorta di francesizzazione e tu lo sai eppure tu applicarono un modello francese con molte boiserie e con molto diciamo con molto cioè voglio dire hanno fatto una serie di cose sovra impresso a questi a questi cosi del cinquecento e chiesero appunto il di Savoia di fare palazzo madama la primo piano la grande sala illustrata con tutti i grandi episodi di Roma del senato romano ognuno di quali era un episodio che insegnava la virtù di Roma e una delle grandi virtù fu fu è stato nella nostra storia presentato da Marco Tullio Cicerone che vinse nel 62 amanti Cristo cosa strana per un uomo nuovo come lui vinse il titolo di console contro Casilina e fece il giorno dell'inaugurazione fece la sua prima catilinaria che poi erano quattro credo che tutti l'abbiamo studiato a scuola e questa storia c'è Cicerone che parla con il famoso scusate alcuno di voi mi ha già sentito Cicerone viene colto nella famosa posizione dell'adlocution cioè i generali romani parlavano in piedi così o a cavallo alle loro truppe quando prima della guerra prima di essere in battaglia era la famosa che fu preso come il segno come dire dei discorsi importanti e Cicerone fa questa cosa così che poi è quello da cui viene un altro tipo di saluto e questa cosa qui lui fa questo Catilina viene lasciato solo dai suoi è accusato di essere un baro uno che sta distruggendo Roma di essere un incestuoso di lavorare contro la propria gente eccetera alla fine tutto questo Catilina dice si volta verso i suoi senatori che l'hanno lasciato solo e dice ma scusate io sono l'erede della famiglia della Gens Sergia una delle più antiche di Roma una famiglia che ha fatto molto per il popolo di Roma e il popolo di Roma riconosce tutti i nostri meriti e voi pensate che adesso che avete la preoccupazione che i veri valori romani stanno scomparendo vi affidate contro di me che ha questi meriti storici come famiglia ha un avvocato dice lui un uomo nuovo e dice lo definisce inquilinus urbis civis Rome cioè un semplice affettuario della città della società della della cultura romana della civiltà romana questa è una storia molto importante perché naturalmente cosa c'è dentro dentro c'è la questione di una rottura democratica di cui è preoccupato all'epoca il senato e si divisero allora se vi ricordate i populares e gli optimates questa è una storia che sappiamo tutti quanti però quando Caterina dice io ho fatto per il popolo quello che il popolo vuole mi viene riconosciuto come famiglia a me vi dovete affidare che cosa dice e ho finito dice in realtà su che cosa si basa la civiltà romana sul patto tra elite e popolo e la verità è che secondo me questa era anche l'idea dell'inquilino no cioè che la fragilità del nostro sistema è quello di una rottura tra elite e popolo è un po' una forzatura perché è avvenuto molti anni fa ma ci sta molto bene e l'inquilino parte da lui parte da Caterina facciamo un salto avanti rispetto all'anno 62 arriviamo al 2011 sono consentiti gli applausi d'anzo incoraggiamoli questa storia di Caterina è meravigliosa nel libro ci sono tre storie bellissime una è quella di Caterina un'altra è Mario Draghi e un'altra in mezzo se ci arriviamo ve la racconto arriviamo al 2011-2022 cioè il decennio raccontato nel libro di luce annunziata c'è un tratto che tiene insieme molte delle storie che racconti tu a un certo punto dici in riferimento a Enrico Letta che magari qualcuno non lo ricorderà perché è stato molto molto breve il suo governo ma è stato a Palazzo Chigi nel 2013 tu dici è questa la fragilità che inseguirà tutti i futuri premier italiani il non avere voti rende Chigi come si direbbe in gergo industriale facilmente scalabile questi premier usa e getta cioè il concetto che dal 2011 arriva fino al 2022 e che unisce tutti i presidenti del consiglio di questa stagione è che non sono il frutto di un voto diretto Conte si potrebbe eccepire perché uno potrebbe dire che se non altro i due partiti che poi esprimono Conte erano sostanzialmente i due vincitori delle elezioni però da Letta a Gentiloni a Mario Draghi sicuramente non sono figure che escono direttamente da un voto quello che chiedo allora a Massimo Giannini è ci sono delle eccezioni a questo trend subito prima e subito dopo e hanno in comune queste due eccezioni di essere espressione del centro-destra cioè il centro-destra in Italia non è mai arrivato a Palazzo Chigi senza aver vinto le elezioni 1994 Berlusconi vince e va alla presenza del consiglio 2001 rivince ed è di nuovo presidente del consiglio 2008 rivince e va a Palazzo Chigi Giorgio Meloni oggi è presidente del consiglio perché ha vinto ha stravinto le elezioni allora quello che ti chiedo è possibile che il centro-destra non arrivi mai a Palazzo Chigi senza aver vinto un'elezione politica e che invece il centro-sinistra in gran parte dei casi debba ricorrere a manovre post-elettorali per arrivare alla guida del governo giochi di palazzo si dice giochi di palazzo la sinistra si arriva con i giochi di palazzo ma sì in realtà quello che tu dici è vero se guardiamo alle vicende di quella che più o meno propriamente viene considerata la seconda repubblica ci sono però due eccezioni e sono le due vittorie di Romano Prodi no? Che tuttavia anche queste ci dicono molto dei ragionamenti che stiamo facendo perché se riesaminiamo e riavvolgiamo il nastro ci rendiamo conto e questo fu oggetto di uno scontro feloce nel periodo del primo Ulivo mi ricordate forse se non lo ricordate ve lo ricordo io il convegno di Gargonza subito dopo la vittoria dell'Ulivo nel 96 quando D'Alema avverte D'Alema è una maledizione della sinistra italiana D'Alema però siccome stupido non era e non è neanche oggi avverte e dice a quelli che lui all'epoca definiva in privato i due flacci di imbroglioni perché li chiamava così Prodi e Veltroni presidente e vicepresidente del consiglio dice occhio noi abbiamo vinto le elezioni ma le abbiamo vinte soltanto perché la Lega non ha fatto l'accordo con Berlusconi quindi state attenti perché noi oggi governiamo ma la destra il centrodestra allora esisteva il centrodestra oggi non esiste più il centrodestra è maggioritario nel paese il centrodestra è maggioritario nel paese che fu diciamo una sorta di anatema lanciato su quel governo che però poi si è rivelato vero è stato così e quello che tu stai dicendo in qualche modo lo conferma peraltro accadde la stessa cosa anche nel 2006 scusami quando Prodi rivince in quel caso con l'Unione un magnifico programma di 281 pagine lo ricordate tutti dura due anni perché non c'erano proprio le basi politiche per stare insieme anche in quell'occasione Bertinotti non da solo per la verità ci fu anche Mastella quella volta ma insomma non stiamo a fare archeologia politica però anche in quel caso successe la stessa cosa anche in quel caso la Lega non aveva fatto l'accordo allora tutto questo per dire che probabilmente è vero che questo paese ha un retroterra politico se non fosse una parola malata vi direi moderato no ma ormai una parola malata perché moderato oggi viene usato per qualunque formula politica compresa quella al governo adesso che di moderato non ha niente però ecco di base effettivamente l'Italia è un paese che tende un po' più con tutta evidenza verso il centrodestra che non verso il centrosinistra e appunto questa è in qualche modo una risposta alla domanda che tu facevi perché è vero che la costante della seconda repubblica è che il centrodestra vince nelle urne il centrosinistra quando governa governa per io ho detto giochi di palazzo per usare una formula cara ai populisti però diciamo è la traduzione di quello che dicevi tu cioè alchimie diverse sempre nel solco della repubblica e della democrazia parlamentare perché dire giochi di palazzo appunto con una formula un po' corriva riflette il malpensare dei populisti ma in realtà anche quando i governi nascono e i premi e i primi ministri governano pur non essendo eletti dagli italiani e questo è il nostro sistema parlamentare non c'è nulla di illegittimo in tutto questo però il risultato è che appunto poi a un certo punto hai la secessione delle opinioni pubbliche che dicono e decidono come come diceva prima lucia dal momento che la repubblica non è mia torno a catilina di chi è la repubblica quella è la domanda di fondo no e che giustifica il titolo dell'inquilino di chi è la repubblica è del popolo o non è del popolo e quando l'elettore si accorge che la repubblica non è sua perché lui vota in un modo e poi alla fine il risultato è un governo di colore diverso e con figure diverse da quelle che lui immaginava e allora una due tre quattro dieci volte alla fine dice sapete che c'è a votare ci va da chi vuole io non ci vado più perché poi tra l'altro nel frattempo la crisi economica morde come sappiamo e noi secondo me non dobbiamo mai dimenticare questo fatto no perché la crisi politica e la crisi economica le crisi economiche di questi anni sono saldamente intrecciate no da quella quella del 2008 poi quello che ha portato esattamente dal 2007 2008 la crisi globale finanziaria da Lehman Brothers in poi no poi abbiamo la crisi dei debiti sovrani 2010 2011 che produce il governo monti e poi siamo arrivati ad adesso covid guerra recessione e il combinato disposto produce questo una democrazia non decidente un sistema che malfunziona e il morality tale come lo chiama giustamente lucia nel suo nel suo libro è questo qua ora il punto è secondo me però fondamentale al di là della lettura dei fatti che abbiamo alle spalle e ci dobbiamo chiedere ma ne siamo usciti davvero oppure no perché questo è la questione di fondo no alla quale ne aggiungo un'altra perché poi questo non è un aspetto secondario è vero che con le riforme costituzionali e con le leggi elettorali non ci si mangia perché la gente giustamente ha altre priorità ma è anche vero che un altro aspetto che rende il nostro sistema malfunzionante è un'ingegneria costituzionale ed elettorale che non favorisce nella stabilità nella durata dei governi e quindi il funzionamento della democrazia è inceppato anche per questa ragione e l'altra costante della seconda repubblica che rende oggi legittima la domanda se ne siamo usciti oppure no è l'uso congiunturale e strumentale delle riforme costituzionali istituzionali ed elettorali perché se noi guardiamo a quello che è accaduto riforme costituzionali c'è stato il titolo quinto nel 2000 che l'ulivo fa in limine mortis perché nel frattempo la lega montava il federalismo la secessione più che il federalismo all'epoca quindi che facciamo come rispondiamo facciamo la riforma del titolo quinto a maggioranza perché ovviamente gli altri non te la votavano e la facciamo a maggioranza e la facciamo male berlusconi vince nel 2001 e nel 2005 anche lui in limine mortis un anno dopo sarebbe andato a casa che facciamo avveleniamo i pozzi facciamo il premierato forte e la devolution così vi imparate anche quel va a sbattere perché gli italiani la bocciano nel referendum confermativo per fortuna perché poi gli italiani hanno una loro saggezza di fondo e arriviamo a Renzi che privo della legittimazione del voto come già capitò al governo d'Alema nel 2000 nel 99 che si ritrovò a Palazzo Ghigi per un gioco di palazzo che fa prova a fare il patto di Natale non mi hanno dato la legittimità i partiti la cerco nelle parti sociali non funzionò e cadde Renzi fa l'operazione analoga in che modo faccio il referendum referendum sulla mia riforma costituzionale e lì traggo la fonte di legittimazione che non ho avuto nelle urne va a sbattere mostruosamente adesso ci risiamo presidenzialismo autonomia differenziata è stata approvata poche ore fa sarà un altro disastro leggi elettorali mattarello nel 93 porcellum rosatellum italicum tutta roba fatta da una maggioranza che stava per andare a casa per impedire all'altra di vincere bene quindi ripeto un uso strumentale congiunturale e personale delle regole del gioco che però sono ancora tutte lì non sono cambiate non sono cambiate quindi possiamo oggi dire che ne siamo fuori secondo me no tra l'altro insomma da persona che si occupa di leggi elettorali con una certa frequenza una cosa che è anche curiosa in questa eterna transizione italiana e che tipicamente si cambiano le regole con l'idea di favorire un certo risultato un certo sviluppo faccio un esempio 2017 rosatellum votato da partito democratico forza italia e lega sostanzialmente qui non solo la maggioranza dell'epoca con l'idea facciamo fuori 5 stelle e al governo andranno forza italia e pd vi ricordo che poi nel 2018 al governo vanno esattamente gli altri lega e 5 stelle però insomma nelle molte cose che diceva massimo giannini lucia c'era anche un richiamo al populismo figlio e forse non solo della crisi economica che poi diventa crisi politica e il populismo ci porta può sorprendere questo percorso a draghi per diciamo contrasto ma anche per continuità perché la legislatura più populista della storia italiana 2018 è la legislatura che si apre col governo sovranista e si chiude con draghi a palazzuchigi il capitolo dedicato a draghi che è quello finale del del tuo libro per evidenti motivi diciamo temporali e anche diceva massimo giannini fosse il più gustoso per chi per chi segue la politica oggi tu racconti in particolare una pagina fondamentale di quel di quel governo cioè il momento in cui un anno fa quasi giusto un anno e un mese fa no meno un anno e pochi giorni fa si parla del dei nomi che possono succedere a sergio mattare la presenza della repubblica e c'è questa candidatura non candidatura di mario draghi tu ricostruisci con documenti nuovi inediti con testimonianze che cosa è successo in quei giorni perché draghi non è andato al quirinale e dici draghi era l'unico che non poteva andarci ci racconti perché sì il capitolo per chi leggerà mai il libro però potete leggerlo capitolo per capitolo se una serie vi viene voglia di parlare correnzi potete fare questo e sto cercando anche di dire sono 600 pagine ma insomma hanno delle scansioni molto in particolare le scansioni che ho fatto hanno a che fare con anche i titoli ogni capitolo un suo sottotitolo secondo me uno che mi è riuscito molto bene massimo era rebecca la prima moglie cioè rebecca sarebbe renzi perché quando mettono il povero gentiloni gentiloni pensa di insieme a pensa insieme a mattarella di fare una sorta di derenzizzazione ordinata di fine legislatura invece renzi sta sempre lì chiama facciamo la crisi facciamo insomma è come rebecca la prima moglie nel famoso film nel famoso romanzo c'è sempre renzi lì che rompe l'anima e robe di questo tipo per dire e quello invece di draghi si chiama tutti eccetto draghi che è tra virgolette perché io parto all'inizio da un signore che mi dice come partiamo e quello dice i veri nomi sono giuliano amato due donne altre tre persone casini chiaramente che è stato quello che più vicino è andato è perché casini era il vero presidente perché lo volevano tutti quanti lo voleva renzi lo voleva conte e lo voleva salvini perché era un democristiano diciamoci la verità e quindi quei democristiani potevano giocare tutti quanti e a quel punto si è detto beh scusate allora ci teniamo mattarella cioè è stato un po tutti gli altri hanno detto ci teniamo mattarella ma è stato casini la persona che è andato più vicino ad essere votato tutti gli altri a partire da mario draghi non sono stati neanche nomi messi sul tavolo ci sono stati quattro giorni di accordi perché non c'era maggioranza quindi bisognerà trovare un accordo tra tutti i partiti naturalmente mario draghi arriva lì come ricorderete con solo fratelli d'italia contro che all'epoca faceva 6 per cento quindi aveva una maggioranza 94 per cento come come non è un uomo con 94 per cento si ritrova in una situazione il giovedì in cui il suo nome non è stato ma neanche messo di fronte ai partiti per dire vediamo se riusciamo a trovare una maggioranza intorno a draghi questo è stato secondo me il punto rivelatore perché nel momento in cui lui peraltro non è stato eletto non è solo che ci è rimasto male fatto un film figuraccia no e semplicemente è scoppiata la bolla informativa per cui lui aveva il 94 per cento del parlamento dietro manco per niente non ha avuto un voto non uno e la storia di draghi è bella perché secondo me è la prova di come quando tu non hai voti alle spalle i voti che cosa sono ragazzi sono il vostro personale esercito sono i cavalieri della tavola rotonda della vostra candidatura di quello che fate ma se tu sei solo e sei soltanto lì in una corte in ogni momento la corte può ammazzarti viene a letto e ti uccide cioè i voti sono la garanzia per un politico pittorico governare questo è la storia di tutto questi 11 anni che senza voto non puoi fare nulla perché arriva il momento tu puoi avere il tuo esecutivo puoi avere gli accordi eccetera eccetera ma questi accordi saltano perché quello che è veramente forte è il fatto che tu dici io faccio sapete come si fa a Roma dice manifestazione a San Giovanni quello è un modo di dire questi suoi miei fatevi sotto perché poi la politica è una rubina così non è una cosa di alta accademia insomma quando tu non hai questa capacità le cose vanno male ora Draghi è la cosa più incredibile di Mario Draghi è che Mario Draghi non l'aveva capita sta storia cioè e questo secondo me è molto interessante perché un premier anche molto importante che aveva grandissimo peso a livello internazionale che ha fatto cose per questo paese che sono quelle che poi ancora sta portando avanti il governo il governo Meloni in realtà è un uomo che non aveva nessun appoggio dentro e fuori il Parlamento e questo è stato diciamo la rivelazione finale no cioè è quasi scenografica questa chiusura cioè tu tiri 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 e vai un altro vai un altro vai un poi arriva il momento finale in cui tutti tutti ammazzano l'ultimo candidato è stato è una grande storia insomma ed è un peccato che Mario Draghi ci sia andato sotto cioè Mario Draghi ha salvato l'economia non diciamo occidentale ma sicuramente quella europea è arrivato lì ed è stato buttato fuori come l'ultimo cane no è chiaro cioè è questa è la malattia del sistema italiano e questo è quello che dice Massimo io sono d'accordo con lui che questo governo è un governo legittimo il primo governo che cambia verso al rapporto tra voto e governo quindi però non è che quella roba lì è stata risolta quindi Giorgia Meloni dovrà fare molta attenzione a ricostruire anche il tessuto istituzionale perché se non c'è un diciamo funzionamento istituzionale il governo non funziona punto eh Massimo sì no voglio una chiosa su Draghi una chiosa su Draghi che mi sembra necessaria perché è verissimo quello che dice Lucia del resto i fatti eh dimostrano in modo inequivocabile che lui non ha avuto nessun tipo di sostegno fin dall'inizio e il racconto che che la gola profonda fa Lucia lo conferma fin dall'inizio c'era una partita persa prima ancora di cominciare a giocarla tuttavia eh questa che è un'altra costante del della seconda repubblica incontra un'eccezione importante che ci dice qualcosa anche sulla qualità delle qualità è una parola no non non userei qualità diciamo sulle caratteristiche della leadership e perché Draghi ha fallito Monti ha fallito Monti ha fatto il presidente del consiglio eh lì c'è anche un po' di di difetto della dello storytelling come oggi si dice da parte dei giornalisti perché quando Monti diventa presidente del consiglio eh anche i media si avventurano in chiavi di lettura palingenetiche l'uomo con l'Oden il trolley ah finalmente è arrivato Dio lo guardavamo come se fosse certo arrivavamo da Berlusconi dalle scene eleganti quindi per carità era un bel passo avanti eh però detto questo poi è andato a finire come è andato a finire lui fece il madornale errore di intestarsi un partito e a quel punto non fu ovviamente più spendibile per il colle Draghi non ha fatto quell'errore non ha fatto un suo partito però però gli errori nella logica dell'ascesa al colle più alto ne ha fatti parecchi perché questo anche nel libro di Lucia si evince con chiarezza anche dal racconto della sua gola profonda è vero che la corsa è eh la partita non è neanche cominciata però è vero che lui l'ha giocata comunque male l'ha giocata male e qui torno a a quel discorso che facevo prima cioè le caratteristiche della leadership e l'eccezione rispetto alla tendenza che con Draghi è stata confermata quell'eccezione si chiama Carlo Zeglio Ciampi perché Ciampi è stato il primo presidente del consiglio tecnico di questo paese anche lì arrivato a Palazzo Chigi a valle di una crisi devastante quella del 92 il governo amato la svalutazione lo scippo notturno dei depositi una stagione che oggi abbiamo alle spalle ma è stata un inferno quella roba eh un inferno arriva Ciampi fa il presidente del consiglio l'Italia esce da questa crisi devastante con gli accordi di luglio nasce la politica dei redditi l'inflazione ritorna a livelli accettabili vabbè poi c'è il 94 la parentesi berlusconiana breve in quel caso poi vince l'ulivo nel 96 e Ciampi diventa ministro del tesoro del primo governo Prodi e diventa l'uomo dell'euro di fatto senza un partito perché Ciampi non ha mai avuto un partito tuttavia è vero che in quella stagione esisteva ancora un barlume di partiti popolari di massa no? Esisteva anche una sorta di gentleman agreement in quel periodo no? C'era un periodo in cui i partiti si scazzavano scusate l'espressione un po' brutale però poi alla fine ci si metteva a tavolo e dice cerchiamo di trovare un modo stringendoci la mano no? Questo è del tutto andato nel libro voi vedrete cioè c'è una classe politica lì dentro io ho cercato di raccontare proprio com'è vera la politica eccetera quello che secondo me è impressionante di questi dieci anni è quanto è diventato brutale e quanto è diventato una perdita di capitale umano cioè se Draghi non riesce a controllare neanche un voto per sé ma immaginatevi uno qualunque insomma no? Ecco questo è una cosa che è stata totalmente persa nella politica. Io volevo completare il ragionamento aggiungendo questo perché poi Ciampi arrivò al Quirinale sull'onda del successo della rincorsa alla moneta unica no? Vi ricordate anche in quella stagione la battaglia dell'Italia fu all'ultimo sangue possiamo dire perché c'era mezza Europa che non ci voleva nel gruppo dei primi dell'unione monetaria no? A partire dagli olandesi volanti, Wim Koch, Wim Doisenberg, il primo ministro olandese e il presidente della banca centrale d'Olanda quindi Ciampi dovette fare una battaglia veramente epocale ma ci riuscì quindi arrivò al Quirinale anche sull'onda di quel successo e sull'onda dell'accordo politico di due partiti, tre diciamo Berlusconi già c'era ma soprattutto Fini e Beltroni no? Che potevano e garantirono una regia che invece per Draghi non c'è stata perché siamo arrivati al Mattarella bis con scusate la formula un po' inelegante ma con le scimmie al volante cioè andavano tutti, non si sapeva dove si andava, ogni giorno anzi ogni giorno, ogni ora usciva fuori un candidato nuovo no? La Belloni via, eh Belloni fatta con la Belloni, poi un minuto dopo spuntava Casini, poi Scasini si era, poi Amato, un caos in quella circostanza invece la regia ci fu però ecco completo il ragionamento per dire ma Ciampi ci arrivò e fu uno dei, se guardiamo agli ultimi decenni, uno dei presidenti della Repubblica più popolari e anche più amati dagli italiani perché pur non avendo mai avuto i voti aveva un tratto di umanità che purtroppo diciamo non voglio fare, non voglio scimmiottare i populismi ma le tecnocrazie o certe tecnocrazie non hanno purtroppo, mi dispiace e da questo punto di vista devo dire che probabilmente una certa, come posso dire, freddezza ma anche un pochino di elitismo da parte di Draghi nella partita del Quirinale lo ha condannato perché lui ha considerato il Parlamento una sine cura, cioè questi tanto, se io ho l'accordo con il leader l'intendenza seguirà e l'intendenza ormai non segue più nessuno, nessuno, lui se voleva fare il presidente della Repubblica il Parlamento se lo doveva coccolare, anche i peggiori peones, anche quelli che imita Crozza quando fa razzi, anche quelli ti devi portare a casa, anche quelli perché la politica è questo, tu lo insegni con questo libro, la politica è gramscianamente, rapporti di forza e come diceva il grande Rino Formica, scusate la parola, sangue merda, così è, e allora se è questo devi e vuoi fare quel gioco, lo devi giocare o in questo modo oppure come nel caso di Ciampi che non si mischiò mai in queste vicende di politica un po' più bassa, dimostrando un'umanità, un calore umano, una disponibilità ad avere rapporti con la gente normale, in carne ed ossa, essendo una di loro, che alla fine fa sì che anche il consenso che viene dal basso ti ci porta lassù, se tu invece stai nella tua torre d'avorio e dici… Io Massimo su questo devo difendere un po' Draghi. No ma io non lo sto attaccando, è un tratto caratteristico, è il carattere, non è. Devo dare un'altra versione, poi voi giudicherete perché c'è scritto tutta questa roba. Mario Draghi arriva alla fine di dieci anni in cui come abbiamo visto ci sono sei governi, lui è il settimo e sette governi e una quantità di persone che sono andato al potere per dieci mesi, tredici mesi, il massimo due anni, nessuno di loro probabilmente era mai… la maggior parte di questi premier, quattro su sette, non erano niente a che fare con la politica. Cioè voglio dire, lì c'è un sistema che ha prodotto rancore, al di là diciamo rancore, paura, senso di rivalsa perché io dico sempre che se questa contenta ho fatto già sto scherzo ma lo devo ripetere, quanti… c'erano dieci premier sul… quanto vale un premier in termini di uomini? Io ho provato a calcolare quanti uomini muove un premier, cioè secondo me cinquemila, perché se voi pensate il premier e tutti gli uomini e donne di Palazzo Chigi che su immediato diciamo cosa, poi il CDM, il Consiglio dei Ministri, tutti i sottosegretari, pensate questa roba così e pensate ciascuno di loro che ha quelli che lo aiutano, che poi sono quelli sul territorio e che poi sono… allora uno che va a Palazzo Chigi si porta un sacco di roba come dicono a Roma per almeno cinquemila persone tra Roma e il territorio. Questo sta lì sei mesi rovinati tutti, perché questo è quello che è successo. La gente è rimasta lì e dice è scattato nella politica italiana un fattore molto personale che era il rancore e il senso di rivincita. Per esempio Conte e Salvini odiavano Draghi, hanno fatto di tutto pur di non mandare Draghi lì, cioè di tutto perché c'era un problema di rancore. Quello che dico è che il disfacimento, che cosa ci insegna questa storia a chiudo, che è il disfacimento di un sistema istituzionale che è come una scala che fa salire e scendere le persone in maniera ordinata. Se si inciampa questa scala della salita e della discesa tu hai persone che si rompono, che si fanno male, che stanno lì, che sono soltanto motivate dalle peggiori cose. Questo significa che tu hai un sistema che produce anche malanimo, violenza. E quello è quello che oggi noi vediamo nella politica italiana. Quando dico non c'è più la capacità di fare il gentleman agreement, è questo. Perché è gente che ha avuto questa enorme capacità di assaporare il potere e l'ha perso. Sono stati dieci anni persi per tante cordate, tante. Pensate soltanto i quattro presidenti che erano in attesa, era Berlusconi, Prodi, Amato e Dalena. Quei quattro presidenti lì che erano anni che aspettavano di fare le elezioni presidenziali. Pensate quante robe hanno mosso loro. Infatti alcuni di loro ancora sono dolorosamente colpiti, non soltanto Mario Draghi. Quindi io penso che ci sia l'unica cosa che dico rispetto a Draghi. Draghi non poteva avere un buon rapporto con un Parlamento che era pieno di ferite e di rancore. Era una cosa impossibile. Non gli avrebbero detto mai comunque buongiorno e buonasera. Non ti ho convinto. Hai ragione però. Lui non si è sforzato. Non si è nemmeno sforzato. Il modo in cui è finito il suo governo, i suoi due interventi in Camera e Senato prima della crisi. Insomma è vero che era un Parlamento ferito ma lui ci ha gettato il sale su quelle ferite. Non ha provato in alcun modo a medicarle. Quindi era difficile che dopo averli trattati così poi ti votavano pure al Quirinale, no? Certo, certamente. Io veramente nemmeno usci la cosa che